voci dal coro a cura della parrocchia dei santi martiri dell'uganda una produzione radio più roma esistono molte scuole musicali metodi didattici e strategie per coinvolgere un gruppo durante lo studio di un brano musicale normalmente avviene che si inizia in modo soft per sondare il terreno poi lo studio si intensifica fino a diventare serrato in prossimità dell'evento che sia un concerto un concorso o un tempo forte liturgico anche un matrimonio passiamo adesso a esaminare personalmente quelle che sono le fasi che si presentano quando si studia un brano per un coro se il canto è polifonico io personalmente gradirei partiture precise per le sezioni l'ascolto la lettura la registrazione delle singole voci e lo studio scaglionato da prima senza strumenti possibilmente attorno all'organo sicuramente dopo aver scaldato le voci con i vocalizzi poi nelle varie pause normalmente si discute sul significato del testo su come arrangiare l'accompagnamento e di quali strumenti impegnare gradualmente uniamo le voci si cercano quegli incastri precisi tra le note tra le pause la giusta intensità la sintonia l'armonia generale si esaminano quei passaggi critici in alcune fasi la precisione dell'intonazione in altre invece e si lascia andare si tende a completare l'esecuzione senza per imparare ad affrontare gli ostacoli rimanendo concentrati sulla partitura normalmente registriamo l'avanzamento dello studio per valutare a mente fredda la sintesi vocale e strumentale la pronuncia quei passaggi critici la resa acustica io poi sono molto meticoloso esamino con scrupolo ogni dettaglio in vista di un'esecuzione non nascondo che in occasione di cantate in iconarte nel 2021 ho studiato la complicata acustica del tempio che ci ospitava la disposizione degli strumenti delle casse e con un mio fedelissimo ovviamente nascosto dal pubblico durante la breve prova che ci ha permesso di trovare l'equilibrio perfetto ed è stata una mossa vincente ora invece passiamo ai brani con la melodia una o due voci accompagnamento liturgico lo studio è più disteso prevale la memorizzazione del testo la ricerca della ritmica musicale la libera interpretazione che rende il brano più gioioso e godibile al pubblico la prova generale lo so per esperienza so che andrà così così e ho imparato a non affliggermi a non dar peso a non mortificare il colo perché tanto solitamente la tensione nervosa sarà ottimale il grande giorno e allora via